Allora, dunque prima di proseguire e quindi iniziare effettivamente il corso con i suoi argomenti, due avvisi, anzi due precisazioni su due cose che mi hanno chiesto durante l'intervallo. Uno, se i gruppi si possono fare misti con il corso in inglese. Preferiamo di no per una questione di semplicità di valutazione e anche per rimanere nell'ambito del corso, a meno di casi veramente eccezionali che però vanno concordati anche con gli altri docenti. Ci hanno posto questa domanda già anche l'anno scorso, abbiamo detto di no. Insomma, siamo riusciti a gestirla abbastanza bene, quindi direi che proseguiamo in questa maniera, anche gli altri docenti concordano su questo. Poi mi hanno chiesto se per i laboratori è possibile lavorare anche non nelle ore di laboratorio. Ovviamente sì, nel senso non è che c'è qualcuno che prende la presenza in laboratorio. Il laboratorio, come tutti i laboratori di corso del Politecnico, è un aiuto che vi danno. Quindi ci siamo io, il mio collega Servetti, il mio collega One Science, che siamo lì a disposizione. Se avete un problema ci chiamate e cerchiamo di risolverlo subito. Se lavorate quando volete voi, anche in gruppo, tra di voi, remotamente, insomma, come volete, è chiaro che ricevere aiuto è più difficile. Per quelli che gli studenti che lavorano non possono venire o gli studenti che sono impossibilitati per qualsiasi motivo. Può anche venire solo uno in laboratorio e gli altri stare a casa e essere collegati remotamente, come succedeva per esempio l'anno scorso quando qualche laboratorio ce l'hanno fatto fare in presenza e così via. L'importante è che siate d'accordo tra voi come gruppo e in qualche maniera vi dividiate il lavoro e vi gestite la cosa. I laboratori non sono da consegnare, tranne i due Big Lab, ma i Big Lab sono da consegnare alla fine. Quindi ci saranno due scadenze, una per ciascun Big Lab, diciamo all'incirca. Dunque il Big Lab 1 dovrebbe andare a finire verso il 5 maggio, quindi non so, verso la metà di maggio ci sarà la prima scadenza e verso metà giugno, prima dell'esame ci sarà la seconda scadenza, più o meno. Non è che ci sono le scadenze intermedie, non c'è da consegnare settimana per settimana. Quindi questo è il meccanismo dei laboratori, quindi il più volessibile possibile cercate di trarne vantaggio nella maniera che più ritenete adeguata ai vostri impegni, possono anche essere altri corsi e così via. Ok, grazie comunque per le domande, perché questi erano due punti importanti che valeva la pena precisare. Direi che possiamo iniziare con il corso, effettivamente. Iniziamo dall'introduzione a JavaScript. Abbiamo detto che parliamo di JavaScript. Vediamo solo che stiamo registrando. Ok. Full screen. Quindi, JavaScript, linguaggio del web. C'è qualche, diciamo, immaginina divertente così per strammatizzare un po' sulle slide, soprattutto fatte dai miei colleghi che sono più bravi di me in questo. Poi si dovrebbero accendere da soli, vero? Ok. Eh, vabbè. Grazie. Ok. Bene. Allora, noi vogliamo imparare JavaScript come linguaggio. Poco mi avete imparato il C, C++, Java, eccetera, eccetera. Ma soprattutto non è che ci basti imparare a fare gli if, i for, perché alla fine la sintassi è tipo C. Quando la vedete, se non l'avete ancora vista, vedrete che è sostanzialmente tipo C, no? Vogliamo capire come usare al meglio il linguaggio. Cioè, ogni linguaggio ha i suoi pattern specifici di programmazione. Non è che potete pensare di programmare in Java come fate in Assembler. Cioè, in Java si programma oggetti con le classi, c'è il garbage collector, si preoccupa di liberare la memoria, non è un problema vostro. In C dovete farlo voi, dovete fare attenzione agli array, a non uscire dagli array, in Java no, eccetera. Quindi, in JavaScript ci saranno tutta una serie di modi di gestire le cose che dobbiamo imparare. Sono quelli su cui ci focalizziamo adesso. Ovviamente assumiamo che sappiate un pochino programmare, quindi sappiate scrivere un po' di for, if, queste cose qua. Ci concentriamo sulle S6, adesso parliamo anche un po' della storia del linguaggio. Per provarlo lo proviamo, o nel browser, abbastanza scomodo, e poi nel browser vogliamo creare l'applicazione web, quindi ci avvaliamo della libreria React, e quindi in realtà ci avvaliamo principalmente di Node, che è un ambiente di esecuzione. Lo useremo per la parte server, ma lo usiamo anche adesso per fare le nostre prime prove con il linguaggio. Un po' come in C, compilate, eseguite. Qui c'è un interprete, lo apriamo, scriviamo del codice, e lo eseguiamo. Se lo facciamo interattivamente viene subito eseguito, se no abbiamo un file, glielo diamo da eseguire, e l'interprete ce lo esegue. Come se aveste fatto Python, voi non credo abbiate fatto Python al primo anno che è il Politecnico, perché è stato introdotto non tanto tempo fa, però è un linguaggio, potremmo chiamarlo di scripting, se volete, no? Abbiamo un interprete, Node, diamo un programma, anzi non è un eseguibile, e questo viene interpretato, e vengono fatte le azioni, diciamo, corrispondenti. Vi può sembrare vecchio la versione di JavaScript, ma non vi preoccupate che le cose più moderne le integriamo lo stesso, hanno pensato un meccanismo per poterle usare lo stesso. O le interprete già supporta le versioni più moderne, oppure ci saranno delle librerie sostanzialmente che ci aiutano. Questa è l'outline di questa mattina, JavaScript, la storia, eccetera, e proviamo le prime cose. Quindi fondamentalmente arriviamo ai array e stringhe, che sono abbastanza di base, però ci sono già un po' di peculiarità. Allora, JavaScript è uno dei linguaggi più diffusi, se non il più diffuso. Adesso qui ognuno può prendere la statistica che preferisce, però fondamentalmente, visto l'uso, visto che gira in tutti i browser e così via, è praticamente più diffuso. Quindi vale la pena di conoscerlo, è l'unico linguaggio con quale possiamo programmare direttamente nel browser. Perché il browser, sin da quando hanno cominciato ad essere programmabili, hanno supportato solo JavaScript. E poi, appunto, con un interprete possiamo farlo girare dove vogliamo che questo node, non è l'unico, però diciamo è il più comodo, perlomeno. Mi raccomando, non ha niente a che fare con Java. Io ogni tanto faccio esempi, parlo anche di Java, però parlo di C, di Assemble, di C Sharp, se volete. Non è che conosca tutti questi linguaggi bene, però, diciamo, giusto per fare qualche raffronto. No, ma il JavaScript è abbastanza peculiare, quindi prende un po' di qua, un po' di là, e ogni tanto facciamo qualche riferimento per rendere l'idea, però, perché magari prende dei concetti che sono ben sviluppati in altri linguaggi, però non ha nulla a che fare con tanti altri linguaggi, in particolare con il Java, il quale condivide solo la prima parte del nome. L'hanno chiamato così perché, per questo è il marketing, come spesso succede. Appunto, la prima versione è stata scritta in dieci giorni, giusto per farvi capire, quindi, come dire, è nato un po' in fretta, è un po' troppo in fretta probabilmente, quindi non ci sono state tante riflessioni dietro allo sviluppo del JavaScript, che sono in realtà venute dopo, col tempo, piano piano si sono messe a posto tante cose che sono state, potremmo dire, un po' buttate giù all'inizio, nelle prime versioni di JavaScript. Quindi, certe decisioni, su come funzionava il linguaggio, sono state prese in maniera, non proprio, come dire, senza riflettere tanto bene. Questa è la storia, nell'angolino vedete l'inventore, Brandon Ake, che sostanzialmente, di Neskip se non ricordo male, un'azienda che, praticamente, se non sbaglio, non esiste più, non so se ne avete mai aperto un browser web Neskip, prima che esistessero Internet Explorer, Firefox, e... fondamentalmente c'era un browser web, i browser web non erano programmabili, caricavano del codice HTML e facciamo vedere delle pagine, c'erano giusto i link per andare da una pagina all'altra, questo era il web iniziale, e poi qualcuno ha pensato, ma cerchiamo di renderlo un po' più dinamico, cerchiamo di rendere, come dire, il comportamento un po' diverso, di interagire più facilmente con l'utente, andare a prendere, a svolgere delle azioni localmente, senza interagire col server, per fare delle cose e così via, delle cose più banali, del tipo, clic, faccio comparire una finestra localmente, dicendo sei sicuro e così via, no? cose molto semplici, si è iniziato da lì e piano piano si è sviluppato, diciamo, un linguaggio che oramai ci consente di programmare in maniera molto efficace all'interno del browser. Quindi, tante versioni si sono succedute, ecco, tra l'altro notate che qui sono passati dieci anni, quindi, diciamo che c'è stato un momento in cui, come dire, non c'è stato tutto questo sviluppo all'interno del linguaggio, e invece siamo arrivati ad un punto in cui c'è un comitato dietro che lo mantiene e che ogni anno fondamentalmente, non dico si crea una nuova versione, ma si valuta se aggiungere nuove funzionalità e così via. Noi ci focalizziamo su questo S6 del giugno 2015, che è anche conosciuto come ES2015, notate la differenza di numero, quindi 6, 2015, 7, 2016, da lì sono andati avanti, appunto, cercando di avere una versione all'anno, eventualmente, per aggiungere nuove funzionalità. Cose che si ritengono utili, con l'uso si scopre che ci sono funzionalità che possono essere utili e quindi piano piano si introducono. Adesso molte di queste non ci servono, però, quindi noi, diciamo, ci focalizziamo su questa versione perché è quella che contiene la maggior parte delle cose che ci servono. Però ci saranno cose utili, per esempio, certi operatori, certe funzionalità di linguaggio che può venire utile a utilizzare perché semplificano come scrivere il codice e che sono di versioni successive. Le possiamo usare lo stesso a patto che abbiamo o l'ambiente che ce lo supporta, quindi Node, ma Node è abbastanza aggiornato, quindi lo supporta, oppure nel browser abbiamo dei meccanismi che ci rendono disponibili queste funzionalità, tramite libreria, tramite, diciamo, traduzione automatica del codice in codice più vecchio che faccia la stessa cosa. Ok, quindi, ecco, notate che JavaScript è il nome colloquiale, il nome formale è ECMAScript, ed è per questo che lo chiamate ES, ES 2015, eccetera, ES6. E' uno standard, diciamo che tutti i browser supportavano l'ECMAScript 3, diciamo, col diffondersi di JavaScript, col fatto che vengono sempre più utilizzate, e così via, ovviamente un po' i browser si sono aggiornati, e comunque un po' tutto si è organizzato per avere un comitato dietro che lo mantenga, e lo mantenga un po' bene. Quindi se passato dal faccio tutto in dieci giorni al c'è un comitato che ragiona su come mantenere, cosa introdurre, cosa portare avanti, e vedete chi c'è dentro questo comitato, fondamentalmente tutti i grandi attori del web, Mozilla, Google, Facebook, Apple, Intel, eccetera, eccetera, Microsoft. Ovviamente lo standard, come tutti gli standard, è illegibile, se volete c'è il link, andate a cliccarlo e leggerlo, però è come la sintassi formale, eccetera, e ci serve, potremmo dire niente, neanche come riferimento, perché ci servono di più certi esempi e certe brevi descrizioni, come quelli della Mozilla Developer Network, o quel sito che vi ho fatto vedere prima, che fondamentalmente riprende da lì, per quando abbiamo dei dubbi sul linguaggio, è inutile andare a consultare lo standard. Come fa JavaScript a funzionare? Ci sono degli interpreti che interpretano il codice, come per Python, per esempio, come per altri linguaggi di script, abbiamo diversi interpreti, magari ce n'è uno più diffuso, e più ce ne sono altri, anche qui stessa cosa. In particolare quelli integrati nel browser, ci sono dei browser che... cioè, tutti i browser supportano JavaScript e quindi tutti i browser hanno un interprete JavaScript integrato. In Chrome, Chromium, Node e Microsoft Edge, oramai, oramai dico perché prima ne usavo un altro, c'è lo stesso interprete, che cos'è detto? V8, se lo sentite nominare, è semplicemente un interprete JavaScript. quindi nessuno si mette, se vuole supportare JavaScript, si mette a scrivere nell'interprete, perché c'è di diventare matti, Si prende un interprete, tra l'altro penso che molti di questi siano open, si usa, si integra nella propria applicazione. Quindi Node, fondamentalmente, ha creato un applicativo, un programmino che installate, che dentro ha l'interprete JavaScript e che gira, se lo scaricate per Linux su Linux, scaricate per Windows su Windows, scaricate per Mac e su Mac. Mozilla è diverso, ne ha un altro, questo Spider Monkey, Microsoft aveva il suo, poi sapete, forse no, ma comunque ve lo dico, che Edge, diciamo, è andato più verso usare lo stesso engine, le funzionalità tipo Chromium, quindi fondamentalmente ha cambiato, motivi politici, altri motivi, non ci interessa saperli, ma a noi in realtà queste informazioni le diciamo più che altro per contesto, perché poi che ci sia un interpreto o l'altro a noi non cambia nulla perché le funzionalità che usiamo fondamentalmente sono supportate da tutti. Vabbè, Apple ne usa ancora un altro e va bene. Ecco, bisogna stare attenti che il mondo reale non è la teoria che viene raccontata, quindi questo è lo standard, se uno implementa quello standard, quella versione, ha queste funzionalità, in teoria sì, in pratica, poi c'è sempre l'implementazione di mezzo e magari c'è qualcosa non ben supportato, non perfettamente supportato, per motivi vari, motivi storici, difficoltà implementative, bug, mille motivi. Quindi, soprattutto per le funzionalità un po' più avanzate, c'è sempre da fare attenzione se verificare se effettivamente le cose sono supportate oppure no. Noi difficilmente incroceremo dei problemi in questo senso, però sappiate che può capitare, soprattutto magari sulle funzionalità più nuove, eccetera, che qualcuno volendo andare più avanti, volendo accelerare i tempi, eccetera, magari ha provato a implementarlo prima che lo standard fosse finalizzato, poi hanno cambiato qualcosa e quindi l'implementazione non è perfettamente compatibile, e così via. Quindi, ci sono sempre questi piccoli problemi, ma che ci sono un po' in tutto. Ok, JavaScript è backward compatible, nel senso che una volta che adesso questo comitato di JavaScript decide integriamo questa funzionalità, non ci saranno successive modifiche al linguaggio, almeno questa è la loro idea, per che come dire, che facciano sì che quella funzionalità non si comporti più come era previsto, no? Quindi cioè, diventi una sintassi, no? o un codice che non è più codice JavaScript valido, no? Se aggiungo qualcosa lo faccio in modalità compatibile con tutto quello che esiste, ok? Ecco, si può riassumere il tutto con questa frase non rompiamo il web, nel senso c'è un sacco di codice che gira nei browser e chiaramente se introduciamo cose non compatibili col passato quel codice lì finisce che se gira su un nuovo interprete non funziona più, questo non si vuole fare. Invece il contrario ovviamente non è scontato, no? Quindi non è detto che le cose nuove che vengono introdotte girino negli interpreti JavaScript più vecchi, che supportano versioni più vecchie. Questo è abbastanza scontato, quello che forse è meno scontato è che è previsto un meccanismo per cercare di supportare queste nuove funzionalità anche in questi interpreti più vecchi. Perché? Perché non è che tutti aggiornano il browser in tutti i momenti e così via. E quindi quello che si può fare è o usare dei cosiddetti transcompilatori di cui Babbel per esempio è una delle più note librerie prende il JavaScript e prende le nuove funzionalità e le trasforma in un codice JavaScript che fa la stessa identica cosa ma usando delle funzionalità più vecchie. Per esempio c'è un operatore facciamo un esempio banalissimo per fare l'esponente quindi 2 alla 7 c'è l'operatore prima c'era l'asterisco l'asterisco non c'è in quella versione e scriverà una funzione un codice o qualcos'altro che fa lo stesso calcolo ma lo fa con la funzione che c'era a disposizione della versione precedente e così via. Questo è un transcompilatore oppure c'è il cosiddetto polyfilling non so neanche se si riesce a tradurre in italiano comunque questo è il termine corretto cioè si riempie quella mancanza in quella versione del linguaggio con un qualcosa che definisce che so una funzione che non c'è a disposizione nell'ambiente di esecuzione in quella versione e che si comporta come quella della nuova versione del nuovo ambiente ovviamente è una cosa più facile e più difficile da fare però dipende anche quanto il linguaggio si presta a fare queste operazioni ma vedete che il javascript si presta bene perché le nuove funzioni sono oggetti e quindi possono fare tanti giochetti non banali che in altri linguaggi invece non si riescono a fare ecco ultima cosa che vale la pena di sottolineare su questo slide che è messo in grassetta è lo strict mode noi chiameremo sempre in strict mode perché perché javascript l'abbiamo detto prima è nato permettetemi di dire male è nato male nel senso che appunto una cosa fatta in dieci giorni è meno del tempo che ci mettete voi a fare il vostro progetto per l'esame uno può anche essere un genio ma proprio creare un linguaggio perfetto in dieci giorni probabilmente non è così banale non si riesce a fare qualcosa di buono e quindi ad un certo punto si è deciso che se uno dichiara il fatto che vuole lavorare in strict mode certi comportamenti di javascript versioni più vecchie vengono disabilitati non si possono più utilizzare quindi in un certo senso si rompe il codice vecchio però noi scriviamo il codice da zero in questo momento e lo strict mode diciamo ci elimina dei comportamenti potenzialmente molto pericolosi molto difficili da gestire che creano bachi difficilmente riconoscibili perché certi errori non sono segnalati e così via e quindi decidiamo di utilizzarlo e peraltro non è una così grossa limitazione nel senso che oggigiorno praticamente tutti lavorano in questa modalità ok come faccio a far funzionare javascript e poi tra pochi istanti andiamo a provare effettivamente allora noi vogliamo lavorare su javascript ES6 la versione ES6 allora o lo proviamo nel browser o lo proviamo dentro un ambiente di esecuzione node oppure giochichiamo con qualche strumento stamattina proviamo questo python tutor sono strumenti online fondamentalmente è un sito fatto in javascript tanto per dire come tutti i siti in cui mettete del codice e ve lo esegue visualmente quindi ci viene molto utile all'inizio per capire cosa sta succedendo perché ci fa proprio i disegnini di quello che succede all'interno della memoria dell'interprete invece il node possiamo usarlo su tutte le piattaforme quindi linux unix eccetera windows native ah sì scusate su windows cosa che vi sconsiglio onestamente perché nodes su windows hanno un po' di problemini quindi se avete windows se possibile io vi consiglierei di installare il vsl2 che è sostanzialmente un ambiente linux che può girare sotto windows senza tante complicazioni di macchine virtuali e così via oppure se vi piacciono di più le macchine virtuali vi fate una macchina virtuale con linux opera insomma fate come volete però vi sconsiglio il windows diretto nativo perché ogni tanto qualche peculiare tempo magari correte dietro dei bug che in realtà non esistono su altre piattaforme ok oltre al fatto che poi abbiamo tutti i problemi di percorso il path con lo slash al contrario il c2 tutte queste cose che in realtà se stiamo sullo stesso ambiente linux unix o anche mac diciamo in una certa misura non abbiamo ok proviamo si diamo uno beh faccio vedere le slide poi proviamo quindi javascript tutor e questa piattaforma che usiamo praticamente oggi è giovedì per giochi chiaro un po' e potete ovviamente poi usarlo anche voi e vi fa vedere che cosa succede cosa sono gli oggetti come sono rappresentati gli array le stringhe e tutto quanto dove stanno le cose le variabili eccetera oppure potete aprire la console del browser il browser tutti i browser diciamo tranne quelli mobili perché ovviamente però vi ha ragioni non è che uno si mette a programmare lì quindi non diciamo non hanno delle funzionalità così estese ma nei browser abbiamo la possibilità di andare ad aprire la console javascript che è dove i programmi javascript scrivono i loro messaggi un po' come il terminale del C quando programmate in C programma a linea di comando vi viene fuori delle scritte è fatta una print qui in javascript fate console log e esce fuori sulla console che è dentro il browser oppure il terminale dove gira node e poi avete anche la possibilità di interagire direttamente con l'interprete javascript quindi ecco diamoci un'occhiata iniziamo la parte un po' più pratica allora ecco prendiamo pure il browser questo è un normalissimo firefox andate nel menu da qualche parte di solito non mi ricordo mai dove sia ecco web developer tools quindi siamo andati questo è firefox più tools more tools web developer tools vengono fuori una serie di tab questo è firefox standard non è che ho installato una versione speciale di firefox ce l'avete su windows linux mac tutti c'è la console dove vengono fuori dei messaggi del javascript e dove posso programmare console log ciao io scrivo anzi vediamo se si riesce a ingerci benissimo e vediamo e scrive ciao poi è un define del valore di ritorno all'espressione però diciamo fondamentalmente gioco con l'interprete che è integrato nel browser alert ciao corso 1 mi viene fuori una finestra tanto per fare così un esempio ripeto firefox standard possiamo aprire chrome possiamo aprire internet esplorare beh non edge internet esplorare oramai non è più supportato e così via oppure avevamo il python tutor trovate il link dove è andato quindi python tutor si chiama python perché si vede che chi l'ha sviluppato è iniziato da python però potete adesso questo è la si potete provare con tanti altri linguaggi no però che so scriviamo qualcosa che so let a uguale 1 let b uguale a che ne so tanto per ok c'è visualize execution quindi adesso vi farà vedere passo passo cosa succede si vengono a creare due variabili abbiamo insegnato due valori niente di particolare oppure c'è la modalità forse un po' più utile dove no si torna indietro live che è un po' più sperimentale che mano a mano che scrivo quello esegue posso tornare avanti e indietro quindi si accorge dei cambiamenti e così via vedete b che ne so uguale 2 5 4 quindi piano piano ho fatto un array e così via ah no mi scompaio quindi qui posso giochichiare ed è ovviamente più immediato della console perché nella console devo avere in testa io cosa sta succedendo ho creato una variabile ho creato un array dove va l'array se io scrivo let c uguale a b no adesso vi faccio un esempio poi adesso andiamo a vederli nel dettaglio però cosa succede viene duplicato l'array o viene fuori un puntatore ha lo stesso array qui ho la figurina sulla destra che me lo fa immediatamente vedere se invece lo scrivo nella console di javascript cosa succede? boh devo saperlo devo conoscere il linguaggio ok quindi strumento utile ma è ovviamente uno strumento didattico non posso pensare di farci girare codice particolarmente complicato dunque quindi andiamo a fare qualche discussione sul linguaggio vero e proprio quindi linguaggio prima di tutto un file javascript è un programma e questo è già un po' diverso da quello a cui siete abituati in C avete tanti file sorgenti li compilati insieme diventano un unico programma qui ogni file sorgente è un programma ovviamente avremo poi dei modi per mettere insieme più file perché non è che possiamo fare tutto su un file però dobbiamo fare attenzione quindi ogni file è indipendente si comunica tra file con uno stato globale e questo già vi fa capire come è stato pensato il linguaggio la prima cosa che vi han detto beh non la prima ma una delle cose che vi han detto quando programmate in C fate attenzione alle variabili globali perché poi tizio la chiama caio la chiama si pestano i piedi a vicenda uno lo usa per fare una cosa l'altro lo usa per fare un'altra il programma una volta che mettete insieme i due file non funziona più quindi il linguaggio è pensato per funzionare in una pagina ogni pagina è indipendente dalle altre e quindi c'era un unico spazio globale dove facevo tutto quello che mi pareva questo è il motivo per cui c'è questo spazio globale però vedremo più avanti che abbiamo un modo che sono i moduli per caricare del codice con le sue variabili senza che interagiscano male tra di loro cioè mantenerli privati perché uno dei problemi poi in javascript lo vedremo è che non esistono le variabili private quindi non ho modo di rendere privato qualcosa se no facendo un giochino apposta con le funzioni come vediamo la prossima volta ecco ricordate un'altra cosa il file prima di tutto viene parsificato cioè letto tutto dall'interprete e poi si inizia l'esecuzione quindi non è che posso scrivere una cosa che ha un problema di sintassi ad un certo punto è aspettarmi che il programma parta lo stesso poi quando arriva l'errore di sintassi me lo dirà vai che legge una riga va legge la seconda va e così via fino a che trova un errore prima di tutto viene letto tutto il programma dal parser cioè quindi se la sintassi rispetta la sintassi javascript non vi dico se ci sono i punti e virgola perché i punti e virgola sono una cosa di nuovo particolare però diciamo se avete scritto qualcosa che non non funziona come sintassi javascript avete aperto tre quadri e ne avete chiusa una sola e questa cosa viene intercettata prima che il programma venga venga eseguito dalla prima istruzione ancora prima ogni linguaggio ha le sue librerie standard anche javascript ha le sue librerie standard in c avete le vostre librerie per fare input output in java avete un sacco di librerie standard e in javascript avete una certa serie di librerie standard librerie proprie e poi ci sono delle api a seconda dell'ambiente di esecuzione che dipendono dall'ambiente di esecuzione quindi nel browser avremo a disposizione una serie di api che non abbiamo in node e viceversa tipicamente per dire nel browser non avete un api per scrivere su file perché dove scrive una pagina web una pagina web non può scrivere su file al massimo ha il suo storage interno eccetera ma il node è un programma che gira su un computer e potrebbe tranquillamente accedere ai file faccio un esempio a caso giusto per farvi capire la differenza tra le due cose piano piano mano a mano che andiamo avanti ci impariamo queste cose perlomeno quelle che ci servono ok struttura come funziona come diciamo è fatto un programma javascript allora prima di tutto è scritto in unicode unicode è una codifica dei caratteri che di fatto ci consente di scrivere qualsiasi carattere anche i più strani anche le faccine se volete come c'è nell'esempio ok cerchiamo di non abusarne nel senso che in italiano abbiamo i caratteri accentati le lettere accentate vabbè possiamo starci però anche per una questione di gestione poi a seconda dell'editor che aprite magari certe cose non ve le interpreta bene e così via soprattutto se andate sulle faccine e queste cose qua cerchiamo di limitarci però sappiate che non è un problema come invece in certi altri linguaggi inserire dei caratteri diciamo da un dataset più esteso anche di altre lingue e non solo nei commenti come nomi di variabili eccetera punti e virgola ci torniamo sopra non sono obbligatori perché vengono inseriti abbastanza automaticamente ma ci sono dei casi in cui diventano obbligatori ma questo è un argomento un po' particolare lo vediamo tra un po' e che i sensitive quindi i nomi delle variabili sono che i 6 di nuovo qui cerchiamo di non fare troppi giochini tra i minuscoli maiuscoli con variabili diverse e così via cerchiamo di attenerci a delle linee guida per quindi a usare come dire le modalità più diffuse che si usano per programmare in javascript senza fare troppo di testa nostra perché il programma è più leggibile per gli altri per noi per noi quando lo rivediamo tra dopo settimane mesi e così via commenti come in C quindi niente di particolare il C diamo per scontato che tutti sappiano cos'è com'è come funziona gli identificativi devono avere una lettera iniziale non possono iniziare il numero dollaro underscore va bene alcune keyword come in tutti i linguaggi la sintesi è tipo C quindi fondamentalmente ci sono le stesse istruzioni diciamo di controllo if e if else eccetera con le graffe e così via tra poco le vediamo prima di andare avanti chissà perché ogni tanto si spegne punto e virgola ecco il punto e virgola è una cosa un po' particolare in javascript nel senso che c'è chi per dire mettiamolo sempre in tutte le istruzioni un po' tipo C ogni istruzione va terminata al punto e virgola se non lo terminate è un errore di sintassi in javascript non è un errore di sintassi basta andare a capo ok perché javascript lì inserisce diciamo così se vogliamo ragionare in termini di punto e virgola quando necessario però però ci sono dei casi in cui diventa obbligatorio perché perché se non lo mettete quando si va a capo il resto viene concatenato a quello che c'è sopra e quindi viene interpretato come un'unica istruzione ed è errore e il caso tipico è la linea successiva che inizia per parentesi tonda parentesi quadra cioè se io ho una variabile o qualcosa un'espressione e poi pensavo di mettere punto e virgola fare del resto che inizia per parentesi tonda parentesi quadra eccetera se non metto il punto e virgola viene tutto concatenato insieme se c'è la parentesi tonda viene preso ciò che c'è prima è fatto tipo una chiamata di funzione perché la tonda di solito vuol dire chiamata di funzione con questi parametri o quadra vuol dire prendi quello che c'è prima è un array accedi in una certa posizione che dipende dalla parentesi quadra quindi lì è obbligatorio mettere il punto e virgola ok ci sono delle linee guide e così via diciamo non è il caso di diventarci matti anche perché vedrete che con l'abitudine piano piano farete diciamo vi accorgerete di dove sbagliate o di diciamo dove è necessario metterlo poi con l'uso adotterete lo stile che preferite fondamentalmente noi preferiamo inserirlo perché così è più chiaro dove finiscono le istruzioni e diciamo c'è meno ambiguità c'è meno possibilità di errori questi errori che vi dicevo prima dove c'è qualcosa che viene concatenato prima non l'avevo messo la parentesi tonda non c'era poi ho scritto un'istruzione in più c'è viene fuori un error non so più da dove è uscito e così via quindi se volete ci sono tutti c'è un sacco di gente che ha fatto tante linee guida se siete curiosi date un'occhiata ma non è il caso di perderci tempo quindi noi tendenzialmente lo inseriremo sempre quando è necessario però non è che all'esame richiediamo che ci sia il punto e virgola basta che funzioni che si sappia per esempio l'errore tipico che succede che è successo anche a me ogni tanto è che uno lascia return e poi mette a capo l'espressione ecco dopo il return automaticamente javascript mette un punto e virgola e uno diventa matta capire perché quella funzione non ritorna non ritorna un valore eccetera ritorna senza ritornare un valore oppure vi dà errore insomma cerchiamo di metterlo così non ci sbagliamo nonostante quello ci saranno appunto ancora dei casi come questo return e così via a cui dobbiamo fare un po' attenzione però almeno possiamo escludere il fatto che sia bisogno dimenticato il punto e virgola ok strict mod usiamolo sempre quindi prima linea scriviamo stringa use strict chiusa stringa quindi apici apici punto e virgola punto basta questa è un'istruzione che non vuol dire niente per il vecchio javascript nel senso è come se scrivete una stringa e basta non da errore nel vecchio javascript ma segnala i nuovi interpreti quelli che possono operare in strict mode di operare in strict mode ok quindi noi useremo sempre questa modalità cosa fa? beh potete leggerlo eccetera però tipo non ci lascia ridefinire le variabili con lo stesso nome no se io faccio ho già chiamato una variabile A non mi lascia fare una seconda variabile A anche perché tipicamente questo è un errore no il vecchio javascript me lo faceva fare e non diceva niente stava zitto così chiaramente si creano solo bug no e poi altre cose un po' più tecniche il dis diverso che vedremo non ci sono i numeri in base 8 diciamo se inizio come in C con lo 0 non è che viene interpretato in base 8 quindi non è che divento matto magari quando faccio una conversione di un numero eccetera insomma tante cose tante piccole cose che non ci cambiano il modo di programmare però ci evitano tutta una serie di bug per cui assolutamente facciamo parliamo un po' di variabili e di tipi e poi proviamo ok allora prima di tutto qui sulla destra chi ha la registrazione vabbè lo vedrà sulle slide mi sa che qui c'è il mio faccino comunque i valori hanno un tipo le variabili non hanno un tipo nel senso che non è un linguaggio in cui dichiaro una variabile con un tipo è un linguaggio di scripting quindi a un certo punto una variabile può contenere un intero anzi un numero non c'è neanche il concetto di intero in javascript c'è il concetto di numero poi dopo gli assegno una stringa dopo ci metto un boolean e così via ok quindi sono i valori che hanno un tipo ho messo un numero ho messo una stringa le variabili non hanno un tipo no questo è già una prima cosa abbastanza peculiare anche se abbastanza diffusa tra i linguaggi di scripting quindi il tipo può essere primitivo ah scusate il valore ecco il valore no il tipo il valore può avere tipo primitivo quindi o stringa o numero notate numero e non intero float eccetera o boolean oppure questi due valori speciali null e undefined undefined abbiamo già intravisto prima nella console esiste anche il null oppure può essere un oggetto e nell'oggetto ci sta qualsiasi cosa fondamentalmente può essere un array può essere una funzione o può essere un oggetto che abbiamo creato noi in qualche modo e vedremo più avanti come fare ok qui già intravedete un po' di sintassi comunque ci torniamo sopra le stringhe possono essere delimitate in tre maniere diverse che hanno un significato un po' diverso i numeri possono essere di qualsiasi tipo intero float per intenderci non è che esiste l'intero il float in javascript lo dico per dire numero intero oppure numero con la virgola ok nel momento in cui abbiamo un linguaggio abbiamo la possibilità di introdurre dei costrutti di controllo quindi di scegliere se fare una cosa o un'altra sulla base di condizioni le condizioni sono vere o false come determiniamo cos'è vero e cos'è falso in javascript perché è quello che mettiamo poi dentro diciamo così le istruzioni if se così vogliamo dire in c lo sapete tutto ciò che è diverso da zero è vero e così via e viceversa in javascript questa è la regola che come vedete è un tantino macchinosa se abbiamo il boolean è evidente c'è il vero e il falso fine ma se non abbiamo il boolean avviene una conversione automatica secondo questa regola questo è di nuovo comune a molti linguaggi di scripting la conversione automatica e bisogna capire e sapere che esiste questa conversione automatica questi valori sono i cosiddetti valori falsi in inglese cioè di tipo falso zero vabbè questo non ci sorprende meno zero esiste meno zero intanto vedete esiste il note number che è pure un valore numerico ed è falso l'undefined e il null sono falsi quindi qui due valori speciali che abbiamo visto prima e in più la stringa vuota la stringa vuota è un valore falso quindi se farò un if di una variabile che contiene una stringa vuota entrerò nel ramo falso dell'if e beh poi tutto il resto è vero ecco e notate che oltre alle stringe esistono gli array gli oggetti eccetera gli array vuoti e gli oggetti vuoti invece sono veri ok bisogna impararlo non è che c'è tanto da discutere questo false tra virgolette è questo false tra virgolette è la stringa false ma questo insomma è giusto per stare all'occhio ovviamente una qualsiasi stringa non vuota è da valore vero il truzzi vedremo gli operatori di confronto occhio che ci sono operatori di confronto che fanno il confronto convertendo il tipo del valore e quelli che non lo convertono cioè vogliono che per l'uguaglianza il tipo sia anche identico un tre stringa e un tre numero è uguale col doppio uguale non è uguale col triplo uguale perché uno è una stringa e uno è un numero ok se invece voglio che avvenga la conversione automatica per qualche motivo mio metto solo il doppio uguale sì facciamo ancora un pezzettino poi facciamo qualche prova numeri dicevo non c'è distinzione tra interi e numeri con la virgola numeri reali viene effettuata una conversione automatica quando necessaria eccetera poi se salite di versione javascript magari spunta qualche nuovo tipo come questo big int e così via non credo che ci servirà mai però giusto per farvi capire appunto in che cosa avanza il linguaggio valori speciali undefined null not a number allora undefined è quello che assume qualsiasi variabile non inizializzata in c cosa succede in c succede che una variabile non inizializzata ha un valore sporco che non conosciamo che è quello che c'è nella memoria in javascript no in javascript ha un valore preciso che è undefined ok come facciamo a testare se è undefined possiamo usare type of undefined va bene insomma però si ci servirà dopo per capire quelle funzioni però insomma quando c'è bisogno poi riprendiamo questi concetti l'importante è che adesso facciamo una rapida passata per andare a sperimentare un po' null null è un valore vuoto no e quando non so non ho un valore da dare quindi un valore specifico quindi non voglio dare un numero una stringa posso mettere questo null è l'equivalente di tanti altri linguaggi quando c'è per esempio il null di java oppure il none di python non il null diciamo definito in c anche quello è uno zero fondamentalmente è una cosa diversa il note number è un numero ed è quello che esce fuori dalle operazioni diciamo che ci danno dei provvedi vedete per zero e compagnia le variabili sono dei riferimenti che si riferiscono a un valore come abbiamo detto prima è il valore che ha il tipo non la variabile la variabile è solo il nome che abbiamo dato a quel valore possono le variabili essere riciclate per diversi valori nel tempo e anche di tipo diverso a un certo punto prima c'era un numero poi c'è una stringa e così via come dichiariamo le variabili poi facciamo le prove perché questa è una peculiarità di javascript abbiamo tre modi per dichiarare le variabili due che useremo e uno che non useremo let const var quindi adesso dobbiamo capire qual è la differenza quindi tutti dichiarano una variabile in realtà const dichiarano qualcosa quindi non possiamo riassegnare un valore quello che chiameremmo una costante però in realtà non è precisissimo chiamarlo così perché poi vedremo che se si riferisce a un array un oggetto poi possiamo andare a cambiare l'array l'oggetto e poi c'è il vecchio modo questo var di dichiarare la variabile che non vogliamo usarlo perché ha una serie di problemi guardiamo questa tabellina si let è il modo principale che vogliamo usare per dichiarare una variabile quindi dichiariamo una variabile se non gli mettiamo un valore immediatamente sarà undefined nel momento in cui mettiamo un valore prende questo valore può essere riassegnato quindi una variabile normale a cui nel corso del programma possiamo cambiare il valore non si può ridichiarare non è che posso rimettere let a e poi fare un altro let a mi dice errore ma come normale come succede in qualsiasi altro linguaggio in c se lo fate mettete il tipo perché il c ha bisogno del tipo però non potete dichiarare due variabili con lo stesso nome così è anche un po' più vicino a quello che siamo abituati a fare lo scope il blocco che lo contiene diciamo che qui ecco le graffe è un po' pericoloso ma perché lo scope in javascript di nuovo è una cosa un po' particolare però diciamo per ora accontentiamoci di questo hoisting no vedremo tra un attimo cosa vuol dire questo è il metodo preferito per dichiarare una variabile quindi quello che vogliamo usare cost stessa cosa l'unica cosa è che non si può riassegnare un valore se noi abbiamo scritto cost cost n uguale 10 vuol dire che immaginiamo che nel nostro programma quel valore non debba cambiare quindi se scriviamo n uguale 11 da qualche parte ci dirà errore perché perché la cost c'è qualcosa che non quadra nella logica ok var è il vecchio modo che non vogliamo usare legacy vecchio modo non vogliamo usare si può riassegnare ovviamente si è una variabile si può ridichiarare ecco questa è già la prima cosa che non ci va no io posso fare var a uguale e poi più avanti fare var a uguale però magari è un errore che ho fatto nel mio programma no lo scopo è diverso è globale oppure se dentro una funzione è dentro una funzione ma non abbiamo ancora fatto le funzioni ecco un altro motivo per cui non ci piace è che io scrivo var a al fondo del mio programma la variabile comincia a esistere all'inizio del programma no questo è quello che viene chiamato hoisting che vuol dire sollevamento eh in inglese cioè non l'inizializzazione ma la dichiarazione della variabile che sarà quindi undefined eh dall'inizio del programma esiste dall'inizio del programma cioè io a fine programma scrivo var e quella va a finire all'inizio no e magari io pensavo di non averla usata ovviamente è un comportamento che mi crea solo delle difficoltà eh si può usare in strict mode che è la modalità in cui andremo a lavorare ma vi sconsigliamo fortemente di usarla ok e poi c'è addirittura il modo di non dichiariamo scriviamo a uguale 2 punto eh senza scriverci let const var ancora peggio no dichiarazione implicita cioè io uso una variabile da quel momento esiste e eh e la posso usare no eh scope globale quindi esiste in tutto cioè posso usarla all'interno di tutto il mio programma viene fatto l'oysting come di nuovo come se avessi scritto var però per fortuna è proibito in strict mode cioè se lo scriviamo in strict mode ci darà errore ok non si può fare tanto è solo cioè è solo porire di problemi e quindi non è preferiamo non farlo ecco allora proviamo proviamo un pochettino e proviamo in questo python tutor eh eh facciamo qualche prova eh ok allora il python tutor è andato a finire qui quindi use strict prima cosa eh possiamo anche anzi dobbiamo anche usarlo nel python tutor anche il python tutor capisce use strict ok let a uguale 1 e va bene cosa succede adesso eh sì ogni tanto è un po' sperimentale il python tutor ogni tanto scrivo il codice ci mette un po' a comparire o magari non compare allora andate avanti indietro con l'esecuzione del programma allora cosa succede ho dichiarato una variabile nella modo in cui volevo dichiararla io let a uguale 1 ha un nome a e un valore 1 la variabile non è che può contenere solo numeri perché abbiamo detto che la variabile non ha un tipo il tipo ce l'ha il numero l'uno infatti se io scrivo a uguale Enrico ok quindi adesso cosa c'è che non va un'espetta end of input sempre una sorpresa qui bisogna sempre fare attenzione a non aver scritto qualcosa che no ecco diciamo il python tutor soprattutto in modalità live ha qualche diciamo ogni tanto ha qualche malfunzionamento quindi fate attenzione però diciamo visto che lo strumento è così utile vi consigliamo comunque di provare a usarlo poi se non vi va la modalità live provate a incollare tutto il vostro programma fate passo passo lui se lo esegue con calma è diciamo un po' più affidabile però vedete che all'inizio se volete torniamo indietro no all'inizio contiene 1 e subito dopo contiene una stringa cioè posso metterci dentro quello che voglio no ok facciamo const quindi tanto per provare const b uguale 4 e poi facciamo b uguale 5 tanto per provare ecco questa volta giustamente riduco un po' così viene dentro l'errore allora tac 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 assignment to constant variable quindi ovviamente non si può assegnare qualcosa di const se noi mettiamo mettiamo allora vediamo dovremmo fare prima lo scope però facciamo invece vi faccio vedere ecco let anzi facciamo così let a uguale e 2 no adesso riproviamo allora perché non mi viene fuori speravo che mi uscisse un warning qui sotto ma non c'è un errore qui sotto ma non mi viene fuori comunque mi viene segnalato che non non possiamo ridefinire la variabile python tutor purtroppo non sempre ho il perché non mi viene va bene adesso forse si concentra su questo torniamo al B ok però C certo C funziona però A vabbè ve lo eseguo lo stesso vi mette l'errore qua ok adesso viene fuori quello che volevamo identify A has already been declared cioè il let non si può ridefinire quindi se l'avete fatto è un errore se invece lo facevate col bar adesso vediamo con pazienza se se lo fa andare no perché mi sa che se fate CTRL C CTRL V fate prima mi sa che live non funziona tanto bene come live ok vedete adesso funziona il var ve l'ha lasciata ridefinire ovviamente è un comportamento che non ci piace purtroppo il var è mantenuto in strict mode perché fondamentalmente è usato in una serie di librerie perché per fare certi giochini diciamo è utile è utile adesso facciamo let C uguale a 1 e vi faccio ancora vedere questa cosa però facciamo di nuovo CTRL C CTRL V così se lo ricrea da 0 quindi ok siamo qua let C uguale a 1 notate che c'è già A qui a destra con scritto undefined ok questo è l'hoisting quello che abbiamo visto prima di cui abbiamo parlato cioè io non ho ancora incontrato l'istruzione var A uguale a 2 e la A esiste già col valore undefined poi in realtà sotto non ho visto vabbè cioè sì l'ho lasciata qui e posso assegnarci un valore prima che esista var A no e ovviamente questi comportamenti creano solo confusione e non li vogliamo vedere quindi ah prende Enrico e poi prende 2 e vabbè poi andiamo avanti facciamo il resto quindi facendo attenzione con questo Python Tutor live quindi la cosa migliore è fare copy and colla di tutto il codice come avete visto perché così riparte da 0 live funzionicchia diciamo potete fare un po' di prove ok parliamo dello scope se non ci sono domande io vado sempre avanti se avete delle domande dei dubbi me lo dite e rispondo volentieri come funziona lo scope di javascript cos'è lo scope e dove le variabili sono visibili in tutti i linguaggi c'è uno scope dove possiamo fare accesso le variabili oppure quando creiamo una variabile dove rimane visibile per quale porzione di programma e così via dunque questo l'abbiamo già visto va bene non si può ridefinire se creiamo un nuovo scope nota bene questo è una maniera tipo C ma non è il modo in cui si crea un nuovo scope in javascript se lo vogliamo fare bene perché è l'unico modo di creare uno scope in javascript e farlo con le funzioni se creiamo un nuovo scope si può chiaramente definire di nuovo una variabile con lo stesso nome esattamente come in C esattamente come in tanti altri linguaggi di programmazione c'è il nuovo scope la variabile interna maschera quella esterna però magari mi serve perché ho ho bisogno di una variabile temporaneamente perché ho il pezzettino di codice tra le graffe e va bene e si può fare quindi se prendete questo codice adesso non non so se si riesce a fare copia e incolla forse facciamolo tanto per provare visto che la prima lezione è così siamo un po' fatici copia quindi via incolla sì ce l'abbiamo quindi proviamo no dai mi sa che python tutor ha qualche particolarità diciamo così se possiamo dire allora partiamo dall'inizio let a uguale 1 cost b uguale 2 va bene let c uguale true va bene a siamo entrati nel blocco vedete che ci sono due a a ce l'ha esterna globale e ce l'ha del blocco sono due cose diverse gli assegniamo un valore e poi vabbè questa è la console scriviamo 5 poi usciamo e la a si riferisce al globale perché cessa di esistere quella del blocco con le graffe ok va bene finora diciamo non è che abbiamo visto niente di così difficile se non per il fatto che stiamo usando un altro linguaggio abbiamo un pihon tutor che fa un po' ogni tanto quello che vuole l'hoisting l'hoisting l'abbiamo fatto vedere io non so se vi lascerei diciamo come esercizio provarlo sul pihon tutor possiamo darci un'occhiata qui abbiamo creato uno scopo un po' più ragionevole perché si fa con le funzioni quindi abbiamo aperto le graffe di nuovo però le graffe di una funzione sono una cosa diversa dalle graffe normali creano effettivamente uno scopo nel senso in cui siamo abituati a pensarlo col c quindi let a uguale a uno quindi questa sarà visibile all'interno dello scopo che è la funzione in questo caso dove siamo dentro questa funzione e quindi stampo qui viene fuori uno stampo qui viene fuori uno non c'è problema b b non c'è qui perché b viene definita più avanti con let quindi nessuno fa l'hoisting fino a che non incontro let qualcosa quella variabile non esiste ok e inoltre se la definisco in un blocco al di fuori di quel blocco non esiste più quindi anche al di sotto qui non esiste c c invece è quella variabile di cui è stato fatto questo hoisting quindi va all'inizio dello scopo cioè esiste all'inizio qui dopo questa graffa no la funzione all'inizio della funzione infatti io posso fare console.logc non viene fuori nessun errore ma viene fuori la scritta undefined che è il valore della variabile poi ci posso fare quello che voglio segno un valore eccetera e questo continua ad esistere dopo perché esiste in tutto lo scopo che è quello della funzione ho messo uno c'era uno per due due e il suo valore fine ok questo è per far vedere come funziona il var cerchiamo di non usarlo se noi usiamo il let diciamo che il let si comporta come siamo abituati alle nostre variabili locali in C che se le mettiamo al di fuori di una funzione diventano variabili globali e stanno nello scopo globale ok quindi occhio javascript è un po' tutto così piano piano impariamo tutte queste questi come dire peculiarità e cercheremo anche di sfruttarle a nostro vantaggio adesso le variabili sono così banali però ci sono certi operatori certi modi di scrivere che sono abbastanza interessanti e sveltiscono molto il codice tutti i linguaggi hanno una serie di operatori notire che stiamo qui a farvi la lista quando c'è bisogno andate a cercarveli sono più o meno come quelli del C quindi l'assegnamento aggiungete sottraete dividete abbiamo già evidenziato il doppio uguale triplo uguale esiste anche il il diverso quindi il not equal e il strict not equal punto esclamativo uguale uguale che se i tipi dei valori sono differenti ci dice che è diverso e poi ovviamente anche se il valore perché una volta che ha fatto il confronto se il valore è diverso ovviamente però ce lo dice anche se il tipo è diverso anche solo il tipo è diverso quindi questo è ribadito bisogna stare un po' all'occhio con il fatto che questi operatori possono essere usati anche con gli oggetti adesso non abbiamo ancora introdotto gli oggetti javascript però sapete programmare avete presente che usare un oggetto un oggetto è una struttura data un po' più complicata non è che l'uguale doppio uguale o triplo uguale mi va a vedere cosa c'è contenuto nell'oggetto fondamentalmente mi verifica solo cosa a che cosa punta quella variabile che si riferisce all'oggetto la variabile che contiene un oggetto in realtà contiene quello che in C chiameremo un puntatore a un oggetto in certi linguaggi come in javascript non si vede esplicitamente il puntatore o chiamatelo riferimento se vi piace di più rispetto a puntatore se riferimento è uguale dire uguale se riferimento è diverso dire diverso ma non va a vedere il contenuto dell'oggetto ok quindi se provate il codice qui a destra cosa che potete fare per esempio ecco facciamolo nella console del browser ma perché così proviamo una volta la console insieme facciamo una nuova pagina così stiamo sereni che non ci sia cose strane more tools web developer tools console no vabbè io ho già i react developer tools installati vabbè questo mi dice di non allora lo proviamo a uguale possiamo scrivere javascript qui dentro quindi x 2.1 che è la maniera di dichiarare un oggetto con una proprietà x di nome x di valore 1 come se avessero scritto x uguale a 1 però ci usa due punti non mettiamo i punti e virgola così sperimentiamo un po' ok è venuto fuori un oggetto b uguale x 1 quindi è venuto fuori un altro oggetto non è che se chiediamo se a è uguale a b ah scusate a uguale a b ci dice true perché dentro c'è sempre un oggetto con scritto x uguale a 1 no né in un caso né nell'altro ok sono due oggetti diversi non va non si va a fare un confronto in profondità che cosa contiene l'oggetto che cosa contiene l'array a meno che se io faccio c uguale ad a ok allora questo c ha lo stesso riferimento di a ok allora c uguale ad a mi dirà vero perché sono lo stesso riferimento se noi lo proviamo nel python tutor ci sono due frecce che vanno allo stesso oggetto ok però io credo che diciamo avendo presente come funziona il c linguaggio oggetti eccetera questo dovrebbe venirvi abbastanza naturale ecco ovviamente usare operatori come maggiore e minore in questi casi ancora è ancora peggio con gli oggetti non ha neanche tutto questo senso bisogna solo fare un po' attenzione a farlo con i numeri e con le stringhe dove lì ha più senso perché chiaramente due numeri vogliamo confrontare però dobbiamo avere coscienza di come funziona la conversione la conversione funziona in questa maniera cioè se noi non mettiamo il triplo uguale oppure il punto esclamativo doppio uguale per la diversità quindi lo strict equal o strict not equal javascript cerca di fare conversione prima di fare il confronto e lo fa con queste regole che vedete ok quindi cerca di portarli allo stesso tipo per fare una conversione una confronto tra due tipi uguali cioè come faccio a confrontare una stringa a un numero non ha senso o sono due string o sono due numeri ok si può forzare la conversione di tipo come si fa in C o in altri linguaggi con i tipi l'unica cosa è che javascript ha come dire la sua modalità che come vedete è un po' particolare no se voglio convertire a string vabbè posso fare c'è un metodo to string oppure c'è string c'è una funzione apposta della libreria interna di javascript quella libreria che dicevamo prima viene con l'ambiente javascript oppure ci sono certi giochini diciamo un po' peculiari come se voglio convertire da string a numero e sono sicuro che quello che è contenuto nella string si converte in un numero se no mi viene fuori un errore posso scrivere più s oppure togliergli zero queste operazioni fanno sì che javascript mi faccia una conversione ok quindi togliere zero una stringa vuol dire prendi la stringa fammela diventare un numero togli le zero e quindi lasciano il numero che è però è diventato un numero il valore ok e allora poi posso confrontarlo con un altro numero essendo sicuro che quello è un numero ok ci sono questi giochetti proprio da manettone diciamo così la negazione la doppia negazione fa tornare il valore uguale se l'applico a qualcosa lo faccio diventare boolean no perché indipendentemente da cos'era prima sulla base di quelle regole trutti e falsi che abbiamo visto prima se io faccio la doppia negazione sulla stringa vuota la faccio diventare un boolean effettivamente non più una stringa che diventa un boolean solo se la infilo in un if e faccio un test ok quindi occhio a queste cose ma piano piano prenderete familiarità e onestamente mi viene da dire non ce ne è anche da usarle tutti i momenti perché perché insomma cerchiamo di non fare troppi pasticci di andare a confrontare stringhe con stringhe numeri con numeri no se ne ho proprio bisogno ecco forse i due metodi che vale la pena di ricordare sono questi parsint e parsfloat che sono un po' l'equivalente di quelli del c che mi consentono di passare dalle stringhe quelle che per esempio mi danno la linea di comando al numero da mettere in una variabile che ha tipo numero int o float infatti si chiama parsint e pars float così qualcuno mi scrive in una finestra in una casellina di un form eccetera qualcosa che viene incamerato sempre come stringa e io poi posso portarmelo come numero a fare tutti i conti che voglio ecco posso gestire anche il caso in cui mi scriva qualcosa che non è un numero perché questi metodi mi gestiscono mi consentono di gestire l'errore mentre se ho più più stringa se c'è un errore rimane un errore ok operatori logici endor eccetera io non starei neanche a guardarli ecco ci soffermiamo solo su certi ne chiamiamo idiomi utili cioè modi di scrivere il codice molto utili che incontreremo spesso questo è l'operatore logico OR esattamente come in C la doppia barra è l'OR ed in C se noi scriviamo A barra barra C vuol dire se A allora A altrimenti B cioè A se A un valore truti vero ok questa espressione prende il valore di A altrimenti prende il valore di B cioè abbiamo diciamo per questo un idioma scritto un qualcosa tipo A oppure come valore di default prendi B no se c'è qualcuno che mi ha messo una stringa vuota ma io in realtà volevo un valore di default che non è la stringa vuota metti quello che c'è dopo le doppie barre ok facciamo un esempio su questo perché è un po' poco intuitivo all'inizio almeno usiamo sempre il nostro python tutor oggi abbiate pazienza proviamo a usare il python tutor poi poi ce ne staccheremo dopo che abbiamo fatto un po' di array oggetti allora let name uguale stringa vuota posso usare il doppio apice il singolo apice non fa niente tra poco vi dico la differenza col terzo modo che era il back tick per le stringhe name uguale name vabbè speriamo non sia successo diciamo there che avevamo l'esempio mettiamo lo spazio scoppio dagli esempi in inglese così facciamo vabbè potremmo farlo anche in italiano non fa niente questo intanto mettiamo un commento quindi valore default there quindi nel nome e poi scriviamo sentence uguale hello anzi no era meglio se non mettevamo lo spazio fa niente più più name allora adesso siccome ho scritto io il codice non ho rieditato il python tutto è funzionato bene come funziona let name stringa vuota ok name stringa vuota name prende il valore di name se name è impostato quindi se name ha un valore trutti no come se io scrivessi if name then non c'è il then vabbè non fa niente if name name else there ok però vedete che la sintasi è estremamente compatta allora name ha la stringa vuota e quindi name mi piglia there che è quello che abbiamo chiamato valore di default e poi vabbè concateno due stringhe qui intuite che si fa col più uno dei modi per farlo e quindi sentence verrà fuori hello there io se però ci metto enrico ok adesso facciamo di nuovo contro c contro v se non il python tutor ci fa dannare name enrico questa istruzione non ha più nessun effetto cioè il valore di default non viene più usato rimane enrico ok sentence hello enrico quindi ci serve perché perché magari abbiamo un input in una funzione in un form da qualche parte che non è obbligatorio da riempire ma in cui vogliamo metterci un valore di default no con questa scrittura in una riga abbiamo risolto il problema altrimenti if name name else no ci facciamo una funzione function if name return name else return there scriviamo tanto codice così quando basta la doppia barra e via in questo senso javascript è molto compatto questo non è l'unico esempio che vedremo così ce ne sono tanti tanti altri e ovviamente li sottolineeremo mano a mano che andiamo avanti quindi come vedete non stiamo a bloccarci sulle singole cose di javascript cioè che sono uguali al c e così via ma diciamo andiamo a fare le cose più interessanti ovviamente le librerie potete cercare chiaramente un linguaggio di programmazione se avete bisogno di fare dei conti qualcosa ci sarà delle delle funzioni non è che dovete mettervi lì a scrivere l'algoritmo alla radice quadrata va bene diamo un'occhiata alle strutture il controllo che sono praticamente come il c no if else non c'è il den come vi dicevo if else if cioè possiamo comodamente scrivere anche il dlc quindi vengono i dati correttamente switch ecco la differenza rispetto al c che può anche essere una stringa ok occhio che la condizione seguo quelle regole del truth ok cioè tutto ciò che è vero per javascript no com'è come in c tutto ciò che è vero per il c il loop c'è il solito for ok di solito c'è un'espressione iniziale che viene eseguita che so per inizializzare la variabile di conteggio queste cose qua la condizione incremento quindi quando la condizione è più vera si esce dal for niente di nuovo do while while esattamente come in c possiamo usare il break possiamo usare il continue che ci sono anche in c quindi se vogliamo uscire prima da un ciclo facciamo un break non c'è problema vogliamo fare passare al ciclo successivo al giro successivo il ciclo continue ecco il for occhio che ha anche altri sintassi for variabile in oggetto for variabile off qualcosa che può essere iterabile allora noi per ora dimentichiamoci quello a sinistra lo vediamo e lo dimentichiamo anche se forse è la cosa più intuitiva in come parola chiave invece dobbiamo sempre usare off off ci consente di ciclare su tutti gli elementi di qualcosa che è si dice iterabile cioè ciclabile dall'inizio andiamo avanti fino alla fine una lista un array un qualche cosa che ha qualcosa che si può enumerare occhio che dovete usare l'off perché l'in cicla sulle proprietà dell'oggetto e che di solito non è quello che vogliamo perché le proprietà sono quelle che ci mettiamo ma ogni tanto anche non quelle di default eccetera non lo usiamo per un array di solito noi i for li vogliamo usare per degli array e quindi se volete girare in un for dovete fare for off oppure scrivete la solita sintassi i uguale a 0 i minore di n i più più non c'è niente di male però di nuovo nell'ottica di scrivere codice più compatto tirare fuori tutta la potenza di javascript possiamo usare off quindi for let a off 4 7 console log a console log ovviamente scrive sulla console ma l'avete già intravisto è come la print del c 4 7 ok se lo applichiamo ad una stringa ci isola i singoli caratteri tra l'altro non esistono i singoli caratteri in c in javascript ma ci sono solo le stringhe da un carattere ecco se invece noi lo facciamo su un array occhio che ci dà le proprietà non ci dà no scusa su un oggetto occhio che ci dà le proprietà che sono i nomi x y non i valori quindi sempre for off se vogliamo girare su qualcosa di iterabile quindi come un array array questo con le quadre adesso non so se adesso dopo comunque parliamo anche di di stringhe array e oggetti e poi funziona ok non è l'unico modo di girare su un array oltre a quello banale i uguale 0 i minore di n i più più for of ci saranno altri modi di programmazione funzionali che vediamo poi più avanti possiamo gestire le eccezioni a dir la verità devo dirvi che non è così comune quindi non cioè lo diciamo perché magari da qualche parte trovate poi una libreria una funzione che ha bisogno di gestire le eccezioni e sapete che esistono e che si possono gestire però diciamo abbiamo detto per completezza ma non è non non l'ho non l'ho visto usare tanto ecco array come funzionano gli array beh la sintassi l'avete già vista le quadre ma quasi tutti i linguaggi usano le quadre peculiarità gli elementi dell'array non devono essere dello stesso tipo cioè i valori dentro l'array possono essere di qualsiasi tipo cioè gli array sostanzialmente sono delle liste di valori di qualsiasi tipo ok hanno la proprietà lente per comodità e poi si possono usare tutta una serie di metodi predefiniti per gestirli ok quindi non è come in C che ve lo dovete gestire voi sono dinamici può cambiare la dimensione dell'array di nuovo diverso dal C e quando usate dei metodi dovete sempre aver presente se vi modificano l'array o vi creano un nuovo array quindi perché ovviamente poi se avete un doppione non ha più i valori se modificate prima non modificate più dopo creare un array è molto semplice aperta e chiusa quadra forse no non l'abbiamo ancora vista però se ci mettiamo dei valori viene creato con quei valori quindi vedete pure let v uguale aperta e quadra uno high la stringa un valore numerico con la virgola quindi un valore reale un boolean posso metterci anche dentro degli oggetti degli altri array qualsiasi cosa ok ecco questa è la cosa carina del python tutor perché quando andiamo su cose un po' più complicate appunto ce le fa vedere ce le fa vedere graficamente dove è andato eccolo qua quindi facciamo una prova allora di nuovo se lo uso strict in realtà volevo ottenerlo però adesso noi stiamo attenti e non facciamo pasticci no però ecco questo è l'array no è l'array che ci viene visualizzato l'abbiamo forse visto prima se io creo se io creo un secondo non so cosa abbia spaito un tutor oggi va bene allora v2 punta lo stesso array quindi le variabili che sono inizializzate con un array sono inizializzate con un riferimento all'array se io voglio copiare l'array devo farlo esplicitamente non posso semplicemente fare un assegnamento l'assegnamento copia il riferimento non copia l'array no come non copierebbe l'oggetto ma come in c se voi fate un'operazione di questo tipo copiate il puntatore non copiate l'array no l'array ce n'è sempre solo uno quindi abbiamo dei metodi apposta di una funzione che ci viene messa a disposizione dall'ambiente di esecuzione di javascript che si chiama array come prima c'era matto che abbiamo intravisto come c'era string come c'era number sono quelle funzioni predefinite ci mettono a disposizione qualcosa appunto proprio del linguaggio l'array lo posso anche creare con questo off passandogli una serie di parametri questa è una funzione che prende un numero variabile di parametri quindi può prendere un parametro due tre eccetera e creerà un array di quella dimensione length tra l'altro qui era th cambia a seconda della dimensione dell'array posso anche usare dei metodi sull'array ci sono una serie di metodi che mi consentono di aggiungere elementi togliere elementi dall'inizio e dalla fine dell'array poi in laboratorio faremo un minimo di manipolazione degli array ma proprio per prendere un po' di confidenza push alla fine aggiunge alla fine dell'array unshift aggiunge all'inizio c'è un disegnino fate qualche prova adesso il tempo è tiranno ma insomma sono array dinamici sono come delle liste aggiungi togli dalla coda dalla testa come facciamo a copiare un array però perché ogni tanto ci serve allora ovviamente si può sempre fare il metodo consentitemi di dire metodo c metodo c è prendo l'array faccio un nuovo array ciclo for per ogni elemento del vecchio array push nel nuovo array ho fatto l'operazione alto così di codice ovviamente javascript avrà qualcosa di un po' più immediato ci hanno messo a disposizione un array from quindi prima cosa chiedetevi se esiste un metodo che lo fa già per voi perché molto spesso c'è occhio solo che fa la cosiddetta shallow copy cioè copia solo gli elementi dell'array che se sono dei valori immediati quindi stringhe numeri o boolean va benissimo mi crea una copia ma se sono essi stessi dei riferimenti cioè degli altri array degli oggetti eccetera mi copia riferimento ma è come fareste in C se avete un array di puntatori copiate i puntatori ma non è che create dei nuovi oggetti puntati quindi ok quindi facciamo proviamo questo array from visto che ce l'avevamo lì pronto sul python tutor se non fa storie let v copy uguale array from v ok eccolo lì copia ma vedete che ce ne sono due no se io faccio v copy anzi v2 di 1 scrivo i hello ok adesso me lo esegue cambia il primo non cambia il secondo anche se l'ho usato col v2 perché i riferimenti sono quelli e lì a destra sono visualizzati ma insomma mi sembra abbastanza ragionevole per il vostro livello di programmazione capire che cosa sta succedendo ok magari visto ancora una cosa cerchiamo di compattare un po' visto che siamo un po' in ritardo se io voglio manipolare le stringhe che alla fine sono array anche loro di singoli caratteri anche se non posso tirarli fuori come tipo carattere se io faccio do l'indice all'interno della stringa posso andare a manipolare i singoli valori facciamo 0 no 1 scusate 1 adesso lasciamo spazio vediamo se python tutor ah no ecco scusate in realtà ho sbagliato volevo farvi vedere una cosa no me l'aveva fatta diversa vabbè niente le stringhe sono ridonli giustamente come ci ricorda stavo copiando dall'esempio ma l'esempio stava facendo un'altra cosa scusate adesso ci arriviamo ci spiccio mi spiccio dove sono le slide ok va bene iterare sugli array for all for of questi li vedremo poi ci sono tutta una serie di metodi concatenare join slice splice che serve appiccicare pezzi di array eccetera però direi che queste cose ve le potete provare poi per conto vostro la cosa interessante è con destructuring assign questo ci interessa vederlo perché perché si può assegnare più di un valore alla volta quindi con questa sintassi come se fosse un array creato al volo let parta quadra xy uguale un altro array ogni elemento a destra viene assegnato a sinistra ok quindi possiamo anche swappare due valori in un colpo solo anche se avevamo solo let x e let y non esisteva nessuno di questi due array ok possiamo anche swappare i valori queste sono di nuovo peculiarità di javascript che vale la pena di conoscere perché le troverete spesso nel codice magari vengono comode anche a voi nel codice questa cosa per esempio viene particolarmente comoda per i valori di ritorno delle funzioni in c potete ritornare un solo valore di qualsiasi tipo che volete però fondamentalmente se avete più di un valore ho ritornato una struct ho ritornato un puntatore qui si può ritornare qualsiasi cosa anche un array e si può direttamente separare nel momento in cui diciamo riceviamo il valore della funzione quindi senza non abbiamo le struct ma abbiamo questo meccanismo per tirar fuori i singoli valori direttamente cioè io dopo questo codice avrò x e y che posso manipolare direttamente ecco operatore interessante sono i tre puntini proprio punto 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 ok mi consente di espandere un oggetto iterabile nelle sue parti quando lo uso per espandere e mi consentirà anche di compattarlo dentro un array quando lo uso a rovescio quindi ok quindi se noi prendiamo per esempio questo assegnamento let x puntini y uguale e gli assegniamo qualcosa allora ciò che è fisso viene assegnato alla posizione fissa quindi il primo x prende il primo elemento 1 e poi y prende tutto il resto ok perché gli ho messo questo operatore spread davanti ok quindi y varrà un array perché non è che può contenere tre valori insieme senza essere un array diventa un array e contiene 2 3 4 cioè ho fatto quello che di nuovo in c avrei fatto con un tot di istruzioni avrei dovuto farmi un for farmi la y e aggiungerci i tre valori a partire dal secondo ok e questo funziona per qualsiasi qualsiasi elemento che sia contenuto nel vettore ricordatevi noi adesso per comodità facciamo degli esempi con i vettori che hanno dei numeri delle stringhe però può esserci che il primo è un numero il secondo è una stringa il terzo è un bulan il quarto è un riferimento a qualcos'altro e così via ok quindi funziona sia a sinistra come dicevamo quindi ciò che viene da destra assegnato dalla parte destra dell'assegnamento a sinistra viene compattato se invece lo metto nella parte destra ha un valore viene espanso quindi io qui avevo un array in cui voglio espandere il contenuto di una variabile che si riferisce a un altro array shoulders knees alla fine se io lo metto così mi viene fuori senza lo spread mi verrebbe fuori un array di tre stringhe è un riferimento a un altro array se ci mettono spread gli vari elementi vengono inseriti all'interno dell'array quindi alla fine un unico array di cinque elementi come quelli che vedete qui dopo il commento head, shoulders, knees and toes quindi ricordatevi è qualcosa di abbastanza utile da conoscere e quindi quella funziona che abbiamo visto prima array off che prendeva i parametri funziona può funzionare per la copia anche se facciamo un qualcosa di questo tipo cioè facciamo lo spread di a che è un array lo facciamo diventare una serie di valori glieli diamo quindi ovviamente array off funziona con gli array anche non solo con con come si dice con n parametri e ci crea il nuovo array nuovo diverso cioè un nuovo array completamente b uguale lo spread di a dentro un array abbiamo duplicato l'array ok questo di nuovo è qualcosa di molto frequente consentitemi anche sì abbiamo quasi finito quindi cancelliamo questa roba quindi v2 copy uguale dicevamo v quindi spread v ok adesso speriamo che ovviamente non è defined siamo in strict mode meno male perché se no non lo trovavamo andiamo alla fine v2 copy mi ha fatto la copia quindi con lo spread questo vedete è probabilmente la maniera più compatta in javascript per copiare un array si fa in fretta e bisogna abituarsi a queste sintassi perché sono dovunque negli esempi che vedete in giro e così via è il motivo per cui le menzioniamo ultime parole sulle stringhe poi finiamo e poi cerchiamo anche di gestire meglio il tempo la prossima volta dunque ecco le stringhe sono un oggetto immutabile infatti prima mi sono sbagliato mi chiedo scusa una volta creata non si può modificare io volevo modificare un elemento un carattere della stringa non si può se ne crea una nuova se c'è bisogno e basta perché non si può modificare un carattere non esiste il char come in c e così via e si fa con una stringa di un solo carattere e di nuovo non è modificabile quindi se ho bisogno di modificarlo vuol dire che devo creare una nuova stringa con un nuovo carattere posso usare le virgolette singole e le doppie oppure la terza modalità che avevamo intravista adesso andiamo a vedere occhio che quando avremo a che fare col gson lo diciamo qui e poi lo ritireremo fuori quando parliamo il gson funzionano solo le doppie virgolette tutte le operazioni ritornano nuove stringhe perché la stringa è immodificabile quindi di default se io faccio s1 più s2 non è che ho creato ho modificato una delle due stringhe length ecco questo non l'avevamo visto vabbè facciamo facciamo un'operazione visto che non l'abbiamo fatto sui vettori len uguale cos'era v v di 1 punto length length ok adesso vediamo se me l'ha fatto len 5 ok della stringa ho fatto accesso al vettore e ho preso length funziona per le stringhe funziona per gli array non è un metodo come in java non è un metodo è una proprietà quindi non si deve chiamare con le parentesi tonde ci sono una serie di metodi anche sulle stringhe però io direi che ve li guardate tranquillamente non è che c'è tanta da capire split splice concatena c'è anche il più va bene i template literals invece voglio soffermarmi solo un istante e poi l'abbiamo fondamentalmente finito i backticks mi consentono di inserire un'espressione javascript di cui viene calcolato il valore e viene sostituito nel momento in cui viene calcolato il valore della stringa ok quindi guardate l'esempio name bill hello dollar aperta graffa c'è dentro un'espressione javascript tipicamente il nome di una variabile perché non voglio cose complicate e e e questa varia questa questa stringa è lo bill ok viene costruita un po' come aveste messo il percento s in c e vi viene costruita la stringa backticks che sono un carattere apposta sulla tastiera buono termino qui scusatevi abbiamo però sforato la prima lezione in presenza dopo due anni prenderci un attimo la mano se avete dei dubbi o domande siamo a disposizione qui mentre smonto oppure c'è slack potete scrivere anche su slack ci vediamo giovedì mattina alle 8 e mezza ok in aula 8i per lezione ok grazie a tutti e a giovedì dov'è che è andato stop grazie a tutti